pelle è una linea che va a rigenerare il tessuto epiteliale. Le termi di lurisia sono state scoperte nei primi del Novecento e la particolarità di queste termi di lurisia è che hanno un'azione lenitiva e sono ricche, ricchissime di elementi rigeneranti. Proprio veramente le cicatrici, pensa che c'erano i minatori, che andavano a immergere le mani, completamente rotte, puoi immaginarti toccando la pietra come si rovinavano, per rigenerare nell'arco di qualche giorno la pelle ritornava finalmente allo stato integro. Quindi puoi pensare anche sulle rughe che cosa può fare una crema a base di acqua termale. Pensa che tutta la parte liquida della crema non è un'acqua distillata ma è acqua termale al 100%, delle termi di lurisia. È buonissima. Già soltanto questo, l'idea è che comunque avete potuto trasformare, utilizzare le proprietà di questa crema per avere un'azione lenitiva, rigenerante, cicatrizzante, anti-age con un profumo delicato ma incredibilmente piacevole. E poi questa texture è unica. Allora è una texture molto gradevole perché come hai visto io posso tranquillamente rovesciare il barattolo, però è anche molto cremosa. Vedi che come in un attimo la posso raccogliere? È come un burro che diventa un fluido. Esatto, come una mousse. È come una mousse. È una crema anti-rughe, rigenerante, che aiuta a ristrutturare la pelle dall'interno. La particolarità è che contiene quindi l'acqua termale delle termi di lurisia, gli estratti dell'olio d'oliva, ma non solo. Abbiamo tanti altri principi attivi interessanti. Ad esempio contiene l'acido ialuronico che ha una potere idratante ed effetto tensore perché si deposita sulla pelle come un velo e crea un leggero tiraggio che aiuta subito ad avere un effetto lifting. In più però contiene anche l'alga rossa. L'alga rossa è un acceleratore della riproduzione cellulare e quindi avrò sempre cellule giovani che fanno parte della mia pelle e quindi la mia pelle sarà più giovane. In più proteggono e rinforzano la pelle. Prima un'amica su Facebook mi ha scritto sul sito delle nostre fan e mi ha scritto Giuliana io ho la pelle molto molto delicata. Sei sicura che questa crema vada bene per me? Mai come adesso vi posso dire utilizzatela, provatela e vi renderete conto quanto una crema può fare bene alla vostra pelle. Questo è un periodo dell'anno in cui si creano rossori, secchezza, eczemi. Il freddo purtroppo disidrata la pelle perché richiama l'acqua all'esterno. Quindi bisogna bere molto come in estate ma allo stesso tempo bisogna utilizzare anche delle creme protettive e rivitalizzanti della pelle, rigeneranti. E questa è la linea termale che mi sento di consigliarvi con assoluta convinzione. Provatela e poi mi direte. Anche perché io anche in questo momento ho la pelle che tende ad essere una pelle di coccodrillo. Quindi probabilmente magari anche rispetto ai prodotti che stiamo utilizzando potremmo aver voglia e bisogno di qualcosa in più. Qui abbiamo le proprietà preziose dell'acqua termale. Quando pensiamo al massimo del benessere pensiamo magari andare a fare una giornata o magari ancora di più perché non ho una vacanza all'acqua termale. Perché immergersi in acque così benefiche dà veramente dei risultati incredibili. Mediterranea in questa edizione è limitata perché è un'edizione limitata ha utilizzato non solo ma soprattutto i benefici di quest'acqua delle terme. L'abbiamo portata per voi esclusivamente. Voi potete avere questa linea a parte con, non vorrei neanche dirlo, il prezzo perché è una sciocchezza. Ma la cosa più importante è la qualità del prodotto. Barattoli di vetro perché il vetro contiene meglio le creme e tutti questi principi attivi super concentrati. Questi sono gli ingredienti alla base di tutta la linea termale. Quindi acqua delle terme di lurisi al 100% che ha un'azione lenitiva, calmante. In più valorizza i principi attivi che poi mettiamo perché è un veicolante. Gli estratti dell'olio d'oliva che ha un'azione nutriente e protettiva niente di più adatto come questo esiste in questa stagione. E poi gli oligoelementi che vanno a rimineralizzare la mia pelle. Allora considerate che questa è una linea assolutamente esclusiva e in edizione limitata, creata per il compleanno, portata soltanto per voi. Quindi è un ottimo primo acquisto per chi vuole scoprire questa eccellenza italiana che arriva dalla grande passione e dall'eritage, dalla tradizione dei fratelli Carli che sono un vanto italiano nel mondo che hanno voluto mettere il loro impegno e anche le loro tecnologie perché voi avete un laboratorio vostro. Esatto. Quindi sono tutti prodotti realizzati in Italia con questa grande ricerca, testati in collaborazione sempre con grandi università. Questa è una linea con i benefici delle acque termali. Insomma i benefici delle terme e di queste in particolare poi sono conosciute veramente fin dall'antichità. Già i romani amavano immergersi nell'acqua termale perché conoscevano i benefici e l'effetto riparatore dell'acqua termale. Venitivo, veramente meraviglioso ma poi anche la texture. Ecco io Giuliana guarda, guardate il vasetto è pieno, guardate la meraviglia ma poi quando la toccherete, quando arriverà a casa vostra vedrete che si trasforma in un fluido che sparisce. È stupenda veramente. Quindi pelle secche utilizzatelo per idratare la vostra pelle. Pelli grasse utilizzatelo per uniformare e proteggere perché la pelle grassa purtroppo è anche più soggetta agli ezemi. Certamente, certamente. Quindi andiamo a scoprire oggi con questa offerta anniversario ci sono ben 10 euro di risparmio quindi con soli 29,99. Tra 3-5 giorni lavorativi potrete scoprire la meraviglia di questa crema in edizione limitata con azione anti-età e riparatrice con acqua termale. 1-2-8-0-6-8 il codice prodotto. E poi la bag con i tre pezzi viso che abbiamo visto prima per un look molto naturale ma luminoso curato, bello e giovane perché sono tre prodotti intelligenti, comunque trattanti. Abbiamo la matita che avete visto che Giuliano ha utilizzato all'interno dell'occhio di Patrizia poi abbiamo il lip, il primer per le labbra che le tratta ma le colora. È un pigmento intelligente che dà ad ognuno un colore personalizzato e poi proprio il nostro trattamento anti-age e illuminante e colorato per il contorno occhi fondamentale per avere uno sguardo riposato. Tutti e tre insieme alla bag costano 29,99 oggi. Ecco, guardate gli occhi, quindi vedete proprio non solo l'occhio è più luminoso ma anche, vedete i piccoli segni, le piccole zampe di gallina come si sono attenuati veramente in maniera importante e questo è l'effetto colore sulle labbra insieme alla matita quindi veramente un ottimo primo acquisto. E adesso parliamo sempre di questa linea in edizione limitata. Vi ho portato il latte detergente ad azione levigante e il tonico. Allora, parto subito con il latte detergente perché all'interno contiene dei microgranuli perfettamente rotondi e completamente biodegradabili al 100% che permettono di trasformare questo latte detergente in una delicata esfoliazione. Allora, vedete che si vedono i microgranuli, io non so se riusciamo a fare una ripresa. Ecco qua, ecco, vedi questi qua, io massaggiando purtroppo è una sensazione che non si può descrivere. Provatela a casa perché questo latte detergente aiuta a rimuovere le cellule morte con dolcezza e a levigare anche le rughe perché nelle rughe si depositano anche le impurità, diventano più scure e si notano ancora di più. Non basta lavare la pelle con una sciacquata d'acqua, bisogna saperla trattare. Vedi i microgranuli qua? Io sono d'accordissimo con te, una delle prime cose che ho imparato è che la pulizia è uno step anti-age fondamentale. La detersione, esatto. E poi, cosa faccio? Ricordiamoci che dentro tutti e due i prodotti c'è l'acqua termale. Allora utilizzo il tonico, te lo voglio far vedere per farti vedere la trasferenza e la purezza di questo tonico, hai visto? Stupendo. Allora questo leggero colore che tu vedi ambrato è dato dai principi attivi, dentro ci sono degli elementi lenitivi come la calendula che vanno a sfiammare la pelle ma in più è contenuta anche l'elastina, ma tu hai mai sentito un tonico con dentro l'elastina? L'elastina ha un altissimo potere, ad esempio elasticizzante, vedi il complesso lenitivo addolcente anti arrossamento è elastina, lenisce, idrata, rivitalizza e illumina. Io allora cosa faccio poi? Faccio vedere come asporto il latte detergente e i microgranuli con un dischetto di cotone imbevuto con il nostro tonico. In questo modo non devo usare l'acqua del rubinetto perché l'acqua del rubinetto non va utilizzata, contiene cloro, contiene calcare che rendono più grigia e opaca la mia pelle. Esattamente. E il cloro la irrita, eh? Eh sì. Allora avete questa doppia opportunità, potete acquistarlo insieme, un unico acquisto, quindi tonico e questo latte con i microgranuli. Trovate tutto sul nostro sito hs24.it per scoprire il Mediterraneo e questa linea in esclusiva qui su hs24 per festeggiare insieme ai 20 anni del brand il primo anno su hs24. Quindi trovate tutto quanto sul sito i nostri acquisti e arriveranno a casa in 3-5 giorni lavorativi. Per cui in queste giornate comunque di freddo la nostra pelle sarà subito pronta, in questo caso con dei prodotti che vanno a rispettarla, a trattarla, a restituirle senza andare a impoverirla chiaramente. Quindi tanti prodotti anti-age, anche tutte le creme della linea Action dedicate ciascuna ad un momento, diciamo a un'età della nostra pelle, quindi dei prodotti molto specifici dai 40 fino agli 80. Quindi www.hs24.it per andare a scoprire proprio quelle che sono tutte quante le linee di Mediterranea, un brand italiano.